La La Land, al cinema in questi giorni, è un sorprendente musical moderno che racconta un'intensa e burrascosa storia d'amore tra un'attrice o musicista che si sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di fortuna. Il film si è giudicato 7 Golden Globe su 7 candidature e ha ricevuto 14 candidature e premi Oscar 2017, eguagliando il record di film come Eva contro Eva e Titanic. Mia, interpretata da Emma Stone, è un'aspirante attrice che, tra un provino e l'altro, serve cappuccini alle star del cinema. Sebastian, che ha il volto di Ryan Gosling, è musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar. Dopo alcuni incontri casuali, fra Mia e Sebastian esplode una travolgente passione nutrita dalla condivisione di aspirazioni comuni, ma quando iniziano ad arrivare ai primi successi, i due si dovranno confrontare con alcune scelte che metteranno in discussione il loro rapporto. La La Land rende omaggio alle leggende del cinema e, nello stesso tempo, porta sullo schermo, come universo incantato, ma anche reale e palpabile, il territorio umano più privato, il territorio, delle relazioni intime, dei sogni più arditi e dei momenti in cui le decisioni che si prendono decidono un intero destino.